Ciao, mi chiamo Donata, io sono di Cosenza e a casa mia compriamo le cose al mercato che produce a prodotti locali. Preferisco venire al mercato e anche spendere un po' di più rispetto al supermercato perché i prodotti non sono imbustati nella plastica. Essendo tutto biologico si inquina meno e non c'è consumo e spreco. So chi produce, chi raccoglie, so che dietro non c'è sfruttamento mentre magari anche ai mercati più grandi vedo che le cose costano molto molto poco e venendo dal sud so che c'è molto sfruttamento dietro. Preferisco spendere di più e venire al mercato la mattina di sabato. Quando fai una scelta, falla giusta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.